nel febbraio 1917 l'impero russo era ormai ridotto alla disperazione non c'era più cibo era finito il combustibile perfino l'esercito non aveva più proiettili per sparare le fabbriche chiudevano e la gente moriva di freddo e di fame la popolazione si ribellò e una volta che riuscì ad impossessarsi delle armi trasformò gli scontri e le dimostrazioni in una vera e propria rivoluzione lo zar fu costretto ad abdicare venne arrestato e si formò un governo provvisorio vennero abolite la censura e la pena di morte e poi fu incaricata un'assemblea di scrivere una costituzione si formarono i soviet cioè dei consigli che riunivano i rappresentanti dei lavoratori a questi gruppi organizzati arrivavano le richieste d'aiuto e le lamentele di tutta la popolazione ma la questione più dibattuta di allora era questa come riuscire a porre fine alla guerra i rivoluzionari per la maggior parte appartenevano al partito socialdemocratico che però al suo interno era diviso in due gruppi c'erano i menschevichi che erano guidati da Kerensky che volevano un governo di tipo liberale con un parlamento eletto a suffragio universale e poi c'erano i bolshevichi che invece erano guidati dagli eni che volevano un governo basato sulle teorie marxiste in cui il potere fosse nelle mani dei lavoratori e fosse abolita la proprietà privata che era un po' il simbolo della borghesia insomma volevano instaurare la dittatura del proletariato il governo provvisorio era guidato dai menschevichi che volevano continuare la guerra lenin allora con un atto di forza un colpo di stato prende il potere il 24 ottobre del 1917 la prima decisione del nuovo governo fu chiedere l'armistizio alla germania la pace fu firmata nel marzo 1918 e non fu certo una pace indolore oltre a dover pagare un'enorme somma di denaro la russia perse la finlandia la polonia i paesi baltici e l'ucraina questa è una vignetta dell'epoca che fa vedere la germania che praticamente lascia solo qualche ossicino alla russia come puoi vedere da questa cartina il confine della russia fu ridotto di parecchio tieni poi anche presente che l'ucraina era il granaio dell'unione sovietica cioè era praticamente la terra che dove si coltivava il grano perché era una terra molto fertile che dava raccolti abbondanti in realtà siccome di lì a poco la germania avrebbe perso la guerra l'ammenda non fu mai pagata e per quanto riguarda l'ucraina venne riconquistata di lì a pochi anni però la popolazione non la prese bene lo stesso e si sentì tradita alcuni addirittura si rivoltarono contro il governo e formarono le armate bianche che si contrapponevano all'armata rossa bolshevica insomma scoppiò una guerra civile sanguinosissima che andò avanti fino al 1921 vinsero i bolshevichi ma la russia pagò un prezzo altissimo da questa tabella puoi vedere che il numero dei morti della guerra civile ad esempio supera quello dei morti della prima guerra mondiale insomma i bolshevichi vinsero ma la popolazione russa in qualsiasi caso perse di fronte a questa situazione di emergenza il governo di lenin si fece ancora più autoritario eliminò le organizzazioni sindacali e perfino i soviet non potevano più decidere nulla accentrò tutto il potere nelle mani di un comitato centrale formato da poche persone tra cui lui stesso di più nacque la cieca cioè una polizia politica che poteva arrestare e addirittura fucilare anche senza processo chi fosse solo sospettato di non essere d'accordo con i principi della rivoluzione fu giustiziata la famiglia imperiale e perseguitata la chiesa ortodossa era la dittatura del partito bolshevico che infatti era l'unico partito consentito che in questo periodo venne rinominato partito comunista sovietico terminata la guerra civile Lenin però si rese conto che doveva fare delle riforme che ridessero un po' di respiro alla popolazione che era uscita distrutta prima dalla guerra mondiale e poi dalla guerra civile lo stato quindi smise di requisire i campi dei contadini anzi addirittura permise loro di poter vendere le eccedenze dei prodotti fu possibile gestire privatamente un'impresa anche se le industrie più importanti rimasero comunque dello stato questa sarà la NEP cioè la nuova politica economica che aveva proprio lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione russa nel 1922 poi venne creata la unione delle repubbliche socialiste sovietiche quindi la russia non era più un impero russo ma una federazione che riuniva una trentina di territori piccoli e grandi ma soprattutto molto diversi tra loro Lenin morirà nel 1924